Qui noi abitiamo in via Poma 3, siamo delle persone che abitiamo qui, ci piace molto questo parco, ma anni indietro sono stati abbattuti degli alberi. Se il comune avesse intenzione di rimettere degli alberi nuovi per recuperare, ci sono dei buchi a posto dove sono o abbattuti perché erano vecchi oppure caduti proprio con i temporali. Ci piacerebbe rimettere delle piante in onore di queste persone che sono venute a mancare con il covid. È una cosa che sentiamo molto particolare perché anche qui sono venute a mancare due o tre persone che conosco e una grazie a Dio sta bene e si è salvata e quindi anche lui farà la sua testimonianza perché è giusto così. Ci piacerebbe molto se l'intenzione del comune è di rimettere qualche pianta, di fare questa dedica a queste persone che ci sono venute a mancare. Sono un testimone che sono stato molto male e ancora sto un po' male e voglio dire insomma che questo covid è un po' stufato tutti e diciamo come ha detto la signora anche saremo contenti se si potesse abbellire il parco mettendo qualche pianta e diciamo magari curandolo un po' di più che nonostante... In onore di queste persone. In onore di queste persone che poi tutto sommato il nostro parco è ben messo e però si potrebbe migliorare. In onore di queste persone.